Buonasera a tutti da Vosso Fegame, oggi andiamo a parlare della partita vinta al Palermo per 1-0 contro il Parma Sono veramente contentissimo perché veramente meritavamo questa vittoria, abbiamo trovato il vantaggio 1-0 con Insigno, un Parma che ci ha veramente attaccato nel primo tempo in una maniera incredibile dove il commissio veramente si è fatto vedere su tutta una parata nel calcio di rigore, ci ha salvato commissio veramente partitone da 8-9, un portiere veramente incredibile che sicuramente il Palermo ha visto tantissimo su questo portiere ha investito tanto, poi la partita, quanto riguarda la formazione, siamo entrati soprattutto con una formazione 4-2-3-1 ma prima di parlare del Palermo vi invito sempre a scrivere al canale, lasciate un like, a te la campagna del seggiorno contenuti e vi do un grande saluto e una buonasera che parleremo di Palermo, parleremo anche di 3-0 Madrid, parleremo anche di Inter che pare giù 1-1 contro i Chelsea e altra batosta della Juventus, 2-0 perde contro la 3-0 Madrid con un gol di Gioia Feliz e Correa ma prima parliamo del Palermo, un Palermo che si presenta con un 4-3-3, con in porta con Miss poi 4 giocatori difensori veramente come Diagritè, Nicolao, Lund e Ndecerao Gomez, Ranocca e Blin, Insigne, Brunori e Di Francesco formazione che propone Dionisi con una scioltezza incredibile un giocatore come Brunori, Insigne e Di Francesco, abbiamo visto in questa stagione che hanno migliorato soprattutto e stanno mettendo veramente impegno in questa stagione Dionisi veramente dato le direttive giuste in questa squadra se non sbaglio questa è la quarta vittoria con Sir Pio, andiamo a vedere subito i risultati dell'Amichevoli, abbiamo fatto 3, Vittorio e l'Amichevoli, 2-0 con l'Osford, 1-0 con l'Ester 1-0 con il Monza e 1-0 in Coppa Italia ci andiamo a giocare soprattutto l'altra qualificazione, l'altro turno di Coppa Italia contro il Napoli partita veramente importante perché è una partita del sud dove andiamo a incontrare finalmente il Napoli dopo tanto tempo ma sappiamo che sarà veramente tosta ma intanto buttiamo fuori questo Palma, un Palma che secondo me poteva risolvere la partita in due minuti ma ha sbagliato tantissimo, il Palermo è stato veramente bravo anche in difesa mi è piaciuto veramente Blin, mi è piaciuto veramente Di Francesco, Brunori e Insigne veramente che quest'anno faranno la differenza secondo me faranno la differenza, occhio a questo Palermo, attenzione a questo Palermo perché tutti danno questo Palermo per sconfitto, per perdente come se fosse la stessa squadra dell'anno scorso, la stessa mentalità ma secondo me è cambiato tutta la mentalità perché è arrivato un coach come Dionisi che sicuramente farà benissimo una partita che nel secondo tempo il Palermo l'ha gestita il Palermo ha cercato tutto più una volta le occasioni da gol ma non sono arrivate parliamo anche del calcio di rigore dove Nicolau è stato veramente ingenuo calcio di rigore che è dato, è battuto da Mann e che sbaglia perché Gomis si indovina su tutto l'angolo è il punto dove poteva tirare Mann un giocatore come Gomis, veramente con tanta esperienza che viene dal campionato francese arriva e si fa vedere subito in questa parata una parata importante perché dopo questa parata dà veramente entusiasmo ai giocatori del Palermo e il Palermo tutto con Insigne, con assi di agritè trovano il gol del vantaggio nel primo tempo arriva la fine del primo tempo vanno sul 1-0 negli spogliatoi il Palermo fa i suoi rispettivi cambi fa entrare Di Mariano, fa entrare Vasic fa giocare Dionisi e altri giocatori Thomas Serri, Peda gioca il nuovo acquisto Thomas Serri il nuovo acquisto Saric entra a posto di Danocchio quindi in due parole cerca di fare il fiato a tutta la squadra mi è piaciuto veramente tanto andiamo ragazzi, sempre forse a Palermo ora parliamo di altre cose come Atletico Madrid, Juventus dopo aver visto la partita ho visto una Juventus solamente timida una Juventus che non riesce a sbocciare e comunque ora ancora non sbocciato Tiago Motta che continua a dare direttive continua a lavorare su questa squadra che ripeto, prende il gol nel secondo tempo di Giova Pelis arriva il calcio di gore con quello in Correa quindi veramente tanta roba da lavorare su errori veramente importanti che deve esattamente risolvere andiamo adesso a tutto il quadro della Juventus e quanto riguarda le amichevoli amichevoli che secondo me poteva fare meglio la Juventus andiamo vedendo i risultati perde contro il Noriberga pareggia contro il Brest vince contro la Juventus nel 23 e poi perde 2-0 la Juventus una Juventus che mi aspettavo di più onestamente mi aspettavo tanto anche in questa amichevole perché ho dato fiducia e pensavo che ci sarebbe stata una rivoluzione in questa partita un risveglio ma non parliamo tanto perché dobbiamo vedere questi Juventus in campionato queste partite sono solo per migliorare come l'Inter e poi il G1 contro il Chelsea sono dei test che le squadre devono fare e che devono dare dei segnali soprattutto a questo inizio di stagione Juventus che sicuramente la prossima andrà a giocare in campionato contro il Como un Como che stasera gioca contro la Samp vedremo che pasta è la Samp vedremo soprattutto cosa andrà a fare questa Samp che la vedo veramente un po' un po' curiosa degli acquisti che ha fatto anche il Como che gli acquisti che ha fatto voglio vedere in campo in Coppa Italia specialmente perché è una partita che conta per quanto riguarda l'Inter il resto mi soffermo soprattutto sull'1-1 1-1 contro il Chelsea che ci sta e ci sta tutto perché ho visto anche la formazione dell'Inter con Correa il partito l'area Turam Di Marco Di Micarihan Aslani Barella Darmian Bisek Ritorno a giocare Acerviton Centrale Carlos D'Agust e Sommer ha fatto dei test ho visto veramente differenza in questa partita vorrei vedere con l'automattine di che pasta e questo Inter quest'anno ma non mi non mi allontano di molto non voglio commentare negativamente questa partita secondo me sono dei test e che i tifosi nero-azzurri e bianco-neri devono stare tranquilli perché alla fine sono dei test e devono iniziare a incazzarsi nelle partite importanti come la Serie A fate sapertesi i commenti cosa ne pensate di questa di questa partita del Palermo ma anche delle amichevoli della Juventus dell'Inter ma occhio a questo Palermo che è veramente partita aumenta l'entusiasmo aumenta tutto il cinismo e aumenta tutto la qualità dei singoli soprattutto che ha a disposizione di Onisi investimenti notati bene e arriva Gomis arriva Thomas Henry arrivano tanti altri giocatori molto importanti fatemi sapere attraverso i commenti secondo voi qual è stato il miglior giocatore in campo del Palermo secondo me è stato Gomis e Insigne Gomis perché chiude la porta e Insigne perché chiude la partita ci vediamo al prossimo video ragazzi sempre forse Palermo occhio attenzione a questo Palermo di Dionisi attenzione